Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI segnaliamo i cantieri in corso per lavori di miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Lastra Signale, due sensi di marcia. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Gli stessi lavori, l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo dal Livorno è chiusa al traffico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, in via Benedetto Fortini, in vigore un restringimento di carreggiata all'altezza del civico 37 per caduto muro di recinzione di proprietà privata, richiesto intervento delle forze dell'ordine. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!